Un uomo ha aperto il fuoco in una piccola azienda di Minneapolis, succidendo sul colpo quattro persone, ferendone tre in modo grave. L'uomo, che secondo la stampa locale aveva 36 anni ed era stato appena licenziato dalla stessa azienda, si è poi sparato alla testa. Si tratta di un'impresa di segnaletica, la sola attività industriale in un tranquillo quartiere residenziale, oggi sotto shock. Improvvisamente abbiamo sentito quattro o cinque colpi. Eravamo tutti sorpresi, ci siamo guardati l'un l'altro, però poi siamo semplicemente corsi alle nostre macchine. La sparatoria segue di un mese quella di New York, davanti all'Empire State Building, anche in quel caso per motivi di lavoro. Due morti, mentre in luglio si sparò in Colorado all'interno di un cinema, 12 morti che si aggiungono ai sei del Tempio Sick nel Wisconsin, una serie mera che ha riaperto il dibattito sulle armi.